Ben ritrovati a questo nuovo video con il quale vi voglio brevemente parlare di formati audio e video, contenitori e codificatori. Perché questo? Perché lo spunto mi è stato dato da questo articolo che vedete qua sullo sfondo, questo articolo sul blog, sul sito della Free Software Foundation Europe, nel quale appunto un autore dell'articolo parla di contenitori e codificatori di formati audio e video. Così, visto che io per primo mi sbaglio sempre esprimendomi su questi formati, ho deciso di fare un video che si spera essere un po' chiarificatore in proposito. Allora, vediamo un po'. C'è una differenza fra contenitore del formato multimediale, audio e video, e del codificatore, ovvero del formato con il quale sono codificate le informazioni multimediali. E in inglese ovviamente la lingua dominante, come ormai sappiamo, questi due elementi vengono denominati container per contenitore rispettivamente codec per codificatore e decodificatore. Ecco, bisogna dire naturalmente che nell'uso di tutti i giorni che facciamo del nostro PC e dei nostri file video e o audio, non ci preoccupiamo di avere questa chiarezza, questa conoscenza, perché il non sapere esattamente la differenza tra contenitore e codificatore non è che ci impedisce alcun che nell'uso quotidiano, quindi non è che sia così indispensabile questa conoscenza, ma fedele al principio che sapere è meglio che non sapere, ho deciso appunto di registrare questo video. Allora, dicevo, c'è confusione quando si parla di formati audio-video, io per primo faccio questa confusione, lo ammetto in totale trasparenza, che quando parlo di un file video, per esempio AVI, dico ti passo un file AVI, ho scaricato un video AVI, ho registrato un video AVI, in realtà AVI non è il formato vero e proprio del file multimediale, ma è semplicemente il suo contenitore o container, come c'è scritto qua. Quindi cos'è un container? È appunto, come dice il nome, il contenitore tecnico, quindi è un formato tecnico che permette di assemblare la traccia video, e la traccia audio di un video, per esempio, perché come voi sapete, o anche se non lo sapete ve lo dico adesso, un video è composto dalle immagini e dall'audio, o da uno o più tracce audio, che possono essere in lingue diverse, può essere suddiviso il parlato dallo sfondo musicale, eccetera eccetera, come ben sapete o come ben sa chi usa un editor video, per esempio, che si possono formare, appunto, assemblare più tracce audio, più tracce video, eccetera eccetera. Ecco, quindi un container non è nient'altro che un, come dico qua, un guscio tecnico, una descrizione tecnica, di un formato tecnico che permette appunto di assemblare i veri file audio e video. Ed ecco che, tra virgolette, sorprendentemente, troviamo dei formati molto conosciuti, dei quali parliamo probabilmente tutti i giorni senza renderci conto che questi in realtà sono solo i contenitori e non il contenuto. L'AVI, molto diffuso, il MOV, l'OGG, il formato aperto, video audio, l'MKV, il famoso Matroska, che si trova tantissimo nei file torrent distribuiti, ha avuto molto successo ultimamente questo formato di contenitore, di container, MKV, V, WebM anche, formato libero promosso anche da Google, WebM, W, AV, WAV per i formati audio, AIFF, MP4, eccetera eccetera. Qui ho solo messo un estratto, attenzione, non del formato ma dei contenitori, adesso lo sappiamo, questi sono contenitori e generalmente questi contenitori non danno problemi di licenze, ovvero sono formati, puramente dei formati tecnici, come ho detto, che permettono di assemblare e di unire in un file solo le tracce video, le tracce audio, per esempio, di un file video e quindi generalmente non sono soggetti a licenze, in realtà i formati soggetti a licenze sono quelli veri, veramente video e audio, che vediamo qua, ecco, sono i cosiddetti codec o codificatori o decodificatori. Ecco, un codec, torno un attimo sopra, laddove un contenere, un puro formato tecnico, quindi informatico, di bit virtuale, se vogliamo, non è un oggetto fisico, un codec può anche essere un apparecchio fisico, che codifica, prendendo per esempio la sorgente da nastri registrati analogici, e li codifica in formati digitali, per esempio, può essere un apparecchio hardware fisico, non solo un programma, ma naturalmente anche e soprattutto un programma, oggi come oggi. Ecco, quindi sulla base di una determinata specifica tecnica, un codec provvede a formalizzare in un formato digitale, audio e o video, adatto ad essere riprodotto dai numerosi software multimediali esistenti, a patto ovviamente che questi software siano in grado, siano stati programmati, per riconoscere quel tal formato. Ecco, per esempio nel nostro Ubuntu, per difetto, è installato Totem come riproduttore multimediale. Totem può riprodurre audio e video di svariati formati, secondo dei plug-in e dei pacchetti che abbiamo installato. Comunque, ecco, Totem è un programma multimediale, di un lettore multimediale, che riesce, grazie a come è stato programmato, a interpretare i più svariati formati creati con i vari codec esistenti. In realtà noi diamo in pasto a Totem un file contenitore, che può essere l'AVI di turno, o il WebM di turno, e poi Totem ci pensa lui ad aprire questo contenitore WebM e a mostrarci a video, la traccia a video, a farci sentire attraverso le casse del PC la traccia audio, secondo appunto i formati codec, che possono essere XVID, anche questo molto noto, VMA di Microsoft per l'audio, AC3, un altro formato audio, DVX, video o audio, MP4, H264, molto famoso, VP8 o VP9, che ora è un formato acquisito da Google, libero, Teora o GV, altro formato video per audio e video, FLAC, formato libero audio, MP3, famosissimo, MP3, formato audio, AAC pure, formato audio, e Vorbis o Forbis, se detta la tedesca, Vorbis o G-A, che è un formato audio libero della famiglia Teora, diciamo qui nell'ambito Teora, del progetto Teora Forbis. Ecco, questi anche qui non sono tutti i formati esistenti al mondo, ma è un estratto, ho dovuto mettere un elenco qui, di formati veri e propri audio e o video, perché alcuni vanno bene sia per l'audio che per il video, alcuni sono solo audio, alcuni sono solo video, comunque vedete che la confusione è facile, io posso dire ti mando, ti invio questo video in formato XVID, e sto dicendo una cosa tecnicamente giusta, perché sto parlando proprio del formato, così come ti invio un video AVI, e in realtà ti sto mandando un contenitore AVI, con all'interno magari un audio VMA, e un video, che so, VP8, ecco. Quindi, voilà, praticamente ho già terminato questo video, perché volevo proprio mostrarvi come sia facile confondersi, io per primo mi sono sempre poco, assai poco preoccupato di stabilire se stessi parlando effettivamente di un contenitore o di un codificatore, comunque così vi lascio questa traccia, per pura informazione e conoscenza, che come ho detto all'inizio del video, meglio conoscere qualcosa in più che conoscere qualcosa in meno, e voilà, ecco qua questo video. Ho parlato anche brevemente di licenze, in effetti, diciamo, fra i due oggetti di questo video, protagonisti di questo video, non è il container che può dare problemi di licenze, ma sono i codec, perché sono questi, quindi, le specifiche tecniche per ottenere un file audio o video, sono quelle che sono magari studiate da un'azienda, e quindi l'azienda si tiene al formato proprietario, e ci mette sopra una licenza, se lo volete usare, tipo l'MPEG, è un formato in realtà che non è libero, o non sarebbe libero, ecco, e così ovviamente Teore è libero, eccetera, eccetera, ecco, qui come sempre vi lascerò poi in descrizione del video, qualche link descrittivo di Wikipedia, per informarsi sempre maggiormente al di là del video che io vi presento, e giusto come esempio, io vi posso mostrare le proprietà di questo video che ho presente, qui archiviato sul mio disco, è un video qualsiasi, non è importanza del contenuto del video, ma è importante che sia un formato contenitore AVI, vedete, questo video ha il suo titolo, punto AVI, se io guardo le proprietà di questo video, vedo benissimo quello che ho appena spiegato, cioè non contiene il video AVI, ma contiene una traccia video in formato XVID, e fa parte di quelli che vi ho parlato qua, è un codificatore XVID, vedete la traccia video è un XVID, addirittura MP4, e l'audio è un Dolby AC3, che fa parte dei formati audio che vi ho citato come codificatori, però ecco avete visto il contenitore AVI, e contiene tutt'altro formato per video e per audio, due formati differenziati, vedete qua, ecco qua, ed ecco qua, voilà, con questo finito, spero vi possa risultare utile questo video, per fare un po' di chiarezza su questo punto, e vi attendo con piacere alla prossima occasione, ciao ciao, ciao,